Rude Gullit il paladino del buonsenso in è una lunga strada. Oggi c'è il sole o una giornata libera dagli impegni calcistici farò una buona azione così non butterò via il mio tempo. Vediamo cosa dice questo giornale che mi è comparso in mano ora. Mio cugino Bob Gullit ha costruito un campo da golf ma non ha clienti. Ma ho capito perché? È situato in mezzo al deserto dei Gobi e non c'è una strada che vi arrivi. Costruirò la strada oggi. Mio cugino Bob non ha proprio buonsenso. Meno male che ho affittato dei castori invisibili che lavorano al posto mio. Hanno quasi finito ma perché si sono fermati ci sono delle nutrie che sono anch'essi roditori. Che vogliono impedirci di lavorare. Piccola nutria perché non vuoi che i castori invisibili costruiscano la strada perché siamo individualisti e permalosi. Non ci piace che non ci si avvisi prima di fare un lavoro così. Ma guarda noi vi ammiriamo segretamente e volevamo farvi una bella sorpresa con una strada nuova a Ale. Allora facciamo una bella festa e diventiamo amici. Si vedete basta un po' di buonsenso. Adesso la strada è finita e mio cugino Bob ha 8000 nuovi clienti. Evviva cugino Bob. Sei contento? Si rude tu si che hai buonsenso. Fine.